Il collegamento ferroviario Pescara-Roma al centro del Consiglio Comunale straordinario convocato dal presidente Roberto Tinari su proposta del consigliere Lelio De Santis con un ordine del giorno a sostegno della proposta dei comitati. Presenti i rappresentanti del tavolo L'Aquila Collegamenti Ferroviari Veloci animato da Roberta Gargano che intanto ha già raccolto circa 9.000 firme che chiedono di inserire la città nel ragionamento complessivo dei collegamenti ferroviari abruzzesi. La regione ha sul tavolo una progettualità che vede la realizzazione della linea ferroviaria tra Pescara e Roma che prevede nuove costruzioni e la modernamento dell'esistente senza considerare l'inclusione del capoluogo abruzzese nella rete infrastrutturale. Il tavolo chiede a gran voce che la questione della realizzazione di linee ferroviarie che dovranno anche mettere in collegamento i porti di Ortona e Civitavecchia preveda il miglioramento della ferrovia passante per l'Aquila che è potenzialmente collegabile a Roma e a Pescara con pendenze al di sotto del limite dell'1,5 necessario per il passaggio delle merci tra l'est e l'ovest europeo. Il Consiglio Comunale di oggi è per noi l'inizio reale di un percorso. Le nostre stanze sono stanze molto semplici noi chiediamo che l'Aquila sia ricompresa in un ragionamento complessivo dei collegamenti ferroviari della nostra regione. La regione è un territorio molto complesso dal punto di vista orografico, non si può pensare di risolvere il collegamento, l'attraversamento dell'Italia con una sola linea. Abbiamo bisogno di ragionare in termini di rete ferroviaria, quindi il collegamento con l'Aquila, soprattutto tra l'Aquila e Roma, diventa fondamentale. Abbiamo letto qualche polemica in questi giorni ma è scevro, veramente lontanissimo dal nostro pensiero. Noi non vogliamo proporci in sostituzione, vogliamo che l'Aquila sia aggiunta e complementare alla rete ferroviaria che si dovrà delineare. Presente anche un comitato del Terramano che lavora congiuntamente con quello dell'Aquila. Deviare la linea Pescara-Roma da Sulmona all'Aquila e seguire anche Ascoli-Piceno che è pronta ad intervenire all'Aquila tramite la fermata di Monte Reale. Potremmo unire Ascoli-Terramo attraverso il Parco Nazionale del Gran Sasso che è una cosa stupenda. Porteremo un milione di turisti l'anno direttamente dal cuore della metropoli a riempire tutti quei paesi ormai abbandonati.